Ancora una meravigliosa serata di cultura all'interno del castello di Castellabate, di scena l'ideatore della rassegna libraria Libri Meridionali, vetrina dell'editoria del Sud Gennaro Malsone e l'architetto Giuseppe Ianni che hanno presentato il volume Un mare di libri, 30 anni di editoria meridionale. In continuazione della serata la presentazione del libro di Amedeo Colella, Mille paraustielli della cucina napoletana. In continuazione della serata lo spettacolo musicale dello stesso Amedeo Colella, noto umorista e del cantautore napoletano Salvatore Allocca, ospite d'onore della serata il popolarissimo imitatore napoletano Lino D'Angio che ha divertito il folto pubblico con imitazioni di politici e personaggi storici del teatro napoletano. Il libro, scritto da Gennaro Malzone e Giuseppe Ianni, racconta la storia di 30 anni della storica rassegna libraria che si tiene a Castellabate, dove sono ricostruite oltre mille presentazioni di libri e dove sono stati riportati i grandi autori e scrittori che hanno dato vita alla Kermesse estiva. Il volume riporta le 160 case editrici che ogni anno espongono 2800 volumi, oltre a 90 articoli di noti giornalisti che in questi anni hanno magnificato l'evento culturale. A parlare di questo volume, un mare di libri, è stato il professore Antonio Villani che ha tenuto una vera e proprio lezio magistralis sull'argomento. Il pubblico dell'evento librario che occupava tutti i posti a sedere nel cortile del castello ha lungamente applaudito i protagonisti. La serata è continuata con Amedeo Colella che ha raccontato divertentissimi paraustielli della cucina napoletana, alternandosi con il noto cantautore Salvatore Allocca che ha eseguito accompagnandosi con la chitarra le più belle melodie napoletane. Gratitissimo l'intervento di Lino D'Angio, impareggiabile, imitatore che ha divertito l'affollatissimo cortile del castello riscuotendo calorosissimi applausi. Così Castellabate, appellata come la cittadella del libro, ogni sera presenta nel castello cultura e spettacolo per un pubblico sempre più appassionato e divertito che segue gli eventi con grande interesse.